L'Asla di Teramo ha iniziato un piano di rientro e messo in atto tutta una serie di strategie per ridurre il debito di 39 milioni di euro accumulato in questi ultimi due anni. Una situazione debitoria simile alle altre regioni italiane è causata dalla pandemia. L'azienda sanitaria teramana nel 2020 e nel 2021 ha sostenuto spese per 90 milioni di euro al fine di assicurare ai cittadini servizi indispensabili in una situazione emergenziale. Di contro, la regione Abruzzo ha versato nelle casse dell'Asla di Teramo solo 34 milioni di euro. In sintesi, se non ci fosse stato il covid, l'azienda avrebbe chiuso inutile. Le cause erano da imputare sia il fatto che questa azienda riceveva minor somme da parte dell'Assognazione regionale, del Fondo Sanitario regionale. Nel momento in cui veniva ripartito a livello regionale vi era qualcosa che non quadrava perché questa azienda veniva attribuita 30 milioni di soldi in meno. E dopo è ovvio che nel momento in cui si pensava a un risanamento contabile di questa AS, di dare un fondamento al bilancio aziendale, è arrivato il covid. Il covid è stato, come possiamo dire, penso che abbia coinvolto tutta l'Italia, tutto il mondo. Noi particolarmente ne siamo stati colpiti perché è ovvio che non eravamo strutture obsolete, non adeguate e ci siamo dovuti preparare a tutto. Questo ha comportato che avessimo delle spese di 42 milioni nel 2020 e 45 nel 2021, ma tutte spese attribuibili al fatto che noi abbiamo dato assistenza. Tamponi, tracciamento. Abbiamo dovuto adeguare soprattutto nel 2021 tre ospedali, tre presidi ospedalieri. Abbiamo fatto un ospedale covid, abbiamo dovuto implementare dei pronti soccorsi tutti ex novo. Dopo sono arrivati i vaccini. Dal momento in cui vi sono delle situazioni contabili particolari a livello regionale, dobbiamo essere attendi nel saper gestire queste somme che ci vengono assegnate e essere oculati nella spesa. Tra le strategie previste dall'Asla di Teramo per ridurre il debito causato dal covid c'è l'arrivo di una PET, previsto a febbraio 2022. Un servizio che abbatterà di molto le liste di attesa con introiti annuali di 1.500.000 euro.